C'è un'ordinanza del sindaco per Luigi Biondi per non sprecare l'acqua e limitarne in uso, in un momento in cui in molte regioni d'Italia c'è una vera e propria emergenza a siccità, vietato l'uso di acqua potabile su tutto il territorio comunale per scopi extradomestici e quindi vietato innaffiare orti, giardini per irrigare campi o pulire automobili, strade o aree private per riempire vasche o piscine, un'ordinanza che fa seguito ad un invito rivolto dalla Gran Sasso Acqua in considerazione delle scarse precipitazioni degli ultimi mesi. Un invito rivolto a tutti i comuni per avere dei comportamenti più responsabili ma un'opera di sensibilizzazione anche rivolta ai cittadini. Certamente nel territorio aquilano la situazione è migliore di altre parti d'Italia. Per questo motivo sono state richieste ai comuni soci di emettere ordinanze per utilizzare la risorsa etica in maniera più sensibile e ridotta e non andare a sprecare la risorsa potabile. Quindi i comuni come quello dell'Aquila, altri comuni hanno messo ordinanza andando poi successivamente a richiedere anche la richiusura di alcune fontane che sono presenti all'interno del territorio garantendo comunque l'apertura di almeno una fontana all'interno di ogni frazione comune. Abbiamo comunque nell'ultimo periodo sensibilizzato il cittadino con indicazioni sia sui social che comunque sul sito di essere catelativo nel rispetto della risorsa idrica. Il cittadino deve ricordare nell'ordinario comunque ma soprattutto in questo periodo che è particolare perché è l'estate, perché aumentano comunque all'interno dei comuni i residenti nella stagione estiva. Quindi diciamo per vivere in maniera più tranquilla nel quotidiano richiediamo di tutelare questa risorsa che è molto preziosa.